Ho studiato filosofia alla sapienza e mi sono focalizzata su filosofia politica, etica e morale. Poi ho fatto un master all'Università di Oxford, studiando rifugiati e migrazione forzata. La Fondazione Naudi ha supportato la mia ricerca per analizzare l'implementazione di un trattato che si chiama Global Compact Refugees, che non è legalmente vincolante per gli Stati, ma si propone di dare un insieme di principi e di buone pratiche per rispondere all'emergenza e all'immigrazione forzata. Io ho analizzato il ruolo dell'Unione Europea in questo contesto e la sua collaborazione con l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, UNHCR. Sto portando avanti adesso il prossimo anno, in questi mesi, questo progetto nel mio dottorato che sto portando avanti all'Università di Ginevra, graduate student for International Development Studies.